Gazzettino Magog, notizie da non mancare. Il vicepresidente Haslix si rivolge agli impiegati in modo con... Voi schiavi che tenti! Voglio dire, miei cari impiegati. Lo zio Haslix si sta prendendo cura di voi, giusto? Vi amo come se foste sangue del mio sangue, giusto? Ma se non catturiamo quel lame, saranno scariche per tutti quanti! E ora, cosa state aspettando? TORNATE AL LABORO! Questo messaggio vi è stato offerto dalle bibite tempesta d'anime. Il nostro vomito è la vostra sete.